Finisce in tribunale il rapporto che sembrava dire il vero idilliaco tra Beppe Fiorello e la famiglia di Domenico Modugno. E pensare che poco più di un anno fa l'attore era stato accolto con applausi e complimenti sul palco del Teatro Ariston proprio per la sua interpretazione del celebre cantante italiano tra le lodi dei suoi parenti. Ad incrinare il rapporto sarebbe stato però il rifiuto di Beppe di prendere parte al seguito della fiction Volare di Rai 1 per portare avanti lo spettacolo teatrale penso che è un sogno così dedicato sempre alla vita di Modugno. Una decisione che ha indispettito i familiari del cantante che non sono stati avvertiti dell'intenzione dell'attore di rompere gli accordi in realtà già presi con parenti e produzione. Secondo Diva e Donna per ora il giudice ha dato ragione ai Modugno vietando a Fiorello qualsiasi utilizzo dell'immagine del cantante.